Ben ritrovati con l'informazione locale di Unica TV edizione di Lecco. Vediamo insieme i nostri titoli di oggi. Oltre 65.000 dosi di vaccino anti-influenzale e quasi 20.000 di anti-Covid-19. Le chiesi hanno aderito alla campagna regionale, sono stati però sufficienti a scongiurare l'emergenza. Lo scontro in campo finisce in tribunale tre anni dopo la partita a un quarantenne di Castello Brianza e finito a processo per aver rotto la tibia al portiere della squadra avversaria. La sentenza a febbraio, due proiezioni da tutte esaurite a Olginate per cento domeniche, il film girato da Antonio Albanese nel suo paese. Le voci dei numerosi residenti che hanno partecipato alla pellicola come comparse. Vediamo i servizi. Non pochi, ma non certo abbastanza da scongiurare l'emergenza. Nelle ultime settimane i pronto soccorso delle province di Lecco e Sondrio hanno lavorato in costante affanno per via delle persone, in larga maggioranza anziani e cronici, che chiedevano aiuto ai servizi sanitari di emergenza per le conseguenze di infezioni da virus stagionali o da Covid-19. Il culmine è coinciso con le feste di fine anno, ora dunque la situazione non può che migliorare, almeno si spera. Di sicuro invece si possono fare alcune riflessioni sull'andamento della campagna vaccinale nei due territori. In provincia di Lecco si è vaccinato contro l'influenza il 19,8% della popolazione. La gran parte delle oltre 65.000 dosi sono state somministrate a over 60, vaccinati più della metà della popolazione nelle fasce di età più rischio, vale a dire quelle comprese fra 80 e 89 anni e fra 70 e 79 anni. Se si escludono i bambini sotto i 10 anni, nel resto della popolazione il tasso di quanti hanno aderito alla campagna contro l'influenza è davvero basso. Numeri ancora più sconfortanti per quanto riguarda la campagna di vaccinazioni contro il Covid-19. Circa 19.000 le dosi somministrate, vale a dire poco più del 5% della popolazione, anche in questo caso la fascia di età più sensibile è quella over 70. Qui però si è vaccinato nel migliore dei casi solo un residente su 5. Stesso panorama in provincia di Sondro, si ferma 8.411 dosi, il dato registrato oggi per la campagna vaccinale anti-Covid-19. Stiamo parlando del 4,7% della popolazione residente. L'adesione si concentra negli over 60. Sono stati invece 30.000 i vaccini anti-influenzali inoculati, vale a dire il 16,7% della popolazione residente. Di questi, circa 23.000 sono stati somministrati dai medici di base, per lo più su soggetti over 60. Le altre 7.000 dosi sono state inoculate nelle farmacie e nei centri vaccinali del territorio. Un'adesione più massiccia, senza dubbio, avrebbe evitato problemi alla gestione dei servizi sanitari di emergenza. Una città che cresce. Così si presenta la nuova piattaforma delle opere pubbliche ideata dall'amministrazione comunale di Lecco per mantenere informati i cittadini sugli interventi in cantiere, in città. Chiunque da oggi può raggiungere il portale attraverso pochi passaggi. Scorrendo la home page del sito del Comune di Lecco, bisogna cliccare su piattaforma, opere pubbliche e la sezione servizi. Abbiamo scelto di attivare questo strumento per monitorare lo stato d'avanzamento di tutte le opere pubbliche. È un dovere da parte di un'amministrazione quella di rendere conto. In questo modo rendiamo conto della parte più evidente per gli interventi più significativi e sono quasi una settantina di questi cinque erano già stati avviati dalla precedente amministrazione, quindi oltre l'80% le nuove iniziative di questa amministrazione. Così come pure le fonti di finanziamento. Il Comune partecipa per il 37% degli 80 milioni di valore complessivo delle opere pubbliche, quindi una parte importante ma minoritaria. Vuol dire che la gran parte delle risorse vengono proprio da bandi che il Comune ha vinto. Aggiungo che anche per la quota pagata dal Comune, quindi per quel 37% di risorse, non abbiamo acceso mutuo, quindi stiamo usando i soldi che abbiamo. Questa piattaforma nasce già nel 2021 come idea, l'abbiamo realizzata totalmente a costo zero grazie all'impegno di Chiara Tirendi dell'ufficio CED del Comune. Questa piattaforma permetterà a tutti i cittadini di vedere a che stato di progettazione sono, a quale stadio della gara sono e a quale stadio del cantiere sono. Sarà possibile visualizzarli sia partendo da una mappa, per cui sono collocati all'interno della città, ma anche per categoria, ma anche distribuiti per rione, quindi vedere quali sono gli interventi all'interno dei singoli rioni e per fruitori dell'intervento, quindi bambini, adolescenti, famiglie, adulti, anziani, turisti. È una finestra sulla città che va a illustrare quelli che sono gli interventi più grandi di opera pubblica e gli interventi minori di manutenzione, che per noi sono le grandi opere, perché vanno a cambiare quello che è il benessere, la fruizione e la vita del cittadino. Le grandi opere magari risultano più impattanti per valore anche economico, ma sicuramente cambiano meno la vita quotidiana delle persone, delle famiglie o degli anziani, dei bambini che vivono ad esempio nei parchi o camminano per la città. Dal 5 febbraio non sarà più possibile raggiungere direttamente la stazione di Bergamo partendo da Lecco. Fino al dicembre 2026 i viaggiatori saranno infatti costretti a scendere alla fermata di Ponte San Pietro, dove troveranno i bus sostitutivi che li porteranno alla stazione ferroviaria di Bergamo. Stesso discorso perché viaggia lungo la linea ferroviaria Milano-Carnate-Bergamo. È la conseguenza dell'avvio dal cantiere di rete ferroviaria italiana per il raddoppio dei binari tra Ponte San Pietro e Bergamo. L'intervento, che costa 97 milioni di euro, comprende anche la realizzazione della nuova fermata di Curno e l'adeguamento della fermata di Bergamo ospedale, scontati i disagi per i pendolari. Per alleviarli, Trenord ha studiato un piano con la prefettura di Bergamo. È previsto un servizio sostitutivo su bus per i collegamenti ferroviari soppressi nella tratta interrotta. Arrivati a Ponte San Pietro, viaggiatori studenti troveranno i bus che li porteranno a Bergamo. Il loro numero è stato calcolato tenendo conto della frequentazione dei treni. Gli orari sono stati definiti per garantire la coincidenza. Un'attenzione particolare è stata riservata agli studenti. Le corse dei bus sono state organizzate sentendo le esigenze degli istituti scolastici per garantire l'arrivo dei ragazzi a scuola prima dell'inizio delle lezioni e il ritorno a casa al termine. Sulla linea Bergamo-Lecco, i treni viaggeranno fra Lecco e Ponte San Pietro mantenendo l'orario attuale. Mantenimento degli orari anche sulla linea ferroviaria Milano-Bergamo-Via Carnate. In questo caso ci saranno anche tre nuove corse, due al mattino da Milano-Porta Garibaldi e una in serata da Ponte San Pietro. Per gli studenti che partono dalle stazioni ferroviarie di Calusco, Terno d'Isola, Cisano-Caprino-Bergamasco, Pontida, Ambivere-Mapello, collegamenti diretti a Bergamo. Accusato di lesioni per aver causato la frattura della tibia al portiere della squadra avversaria. Si è aperto questa mattina il processo a carico di Mario Pirovano, 40 anni di Castello-Brianza. Era il 9 ottobre 2021, prima giornata del campionato provinciale CSI, categoria eccellenza, calcio a 11. Al minuto 20 della partita fra la polisportiva Castello-Brianza e la polisportiva 2001 di Mangianico, lo scontro fra i due giocatori. Secondo quanto denunciato dal portiere, l'intervento dell'avversario sarebbe avvenuto a palla ormai lontana, calciata diversi secondi prima. Un'entrata quindi giudicata come volontaria. L'imputato ha invece riferito di un contrasto con i due giocatori arrivati insieme sulla palla. L'estremo difensore della polisportiva 2001 si era procurato la frattura da Tibia, 120 punti di struttura e 15 viti. A due anni di distanza non ha ancora ripreso a fare sport. Il capitano del Castello-Brianza era stato espulso, rimediando due giornate di squalifica. Non esiste un'immagine partita e quindi, il 14 febbraio, il giudice Paolo Salvatore dovrà prendere una decisione sulla base delle testimonianze dei compagni di squadra dei due giocatori e del refetto arbitrale. Dovrà stabilire se si è trattato di un semplice episodio di gioco oppure di lesioni dolose. Alvia nuovi corsi formativi per il 2024 di ConfCommercio. C'è una linea diretta tra le esigenze del mercato e le proposte formative? Siamo strutturati da 22 anni. In 22 anni i numeri sono continuamente in crescita. Con i cambiamenti che ci sono stati nel mondo in questi ultimi anni, veramente ci fa capire che riuscire ad avere numeri sempre in crescita vuol dire essere capaci di avere una formazione di alto livello, sia qualitativa che quantitativa, come proposta, ma soprattutto in grado di intercettare quelli che sono i bisogni formativi veri delle aziende, dei loro dipendenti collaboratori e anche di tanti privati che sul territorio di Lecco decidono di affidarsi a noi per i loro corsi di formazione. Diamo un po' di numeri. Quanti sono i corsi e quante persone parteciperanno? Allora, guardando la storicità, l'ultima, quella dell'anno scorso, noi abbiamo fatto oltre 180 corsi e poi abbiamo erogato 380 corsi online. Abbiamo formato 1.600 persone. Questo la dice lunga sulla capacità della ConfCommercio di mettersi al servizio dei bisogni formativi dei nostri associati. Anche perché sono previsti dei rimborsi per le aziende? Assolutamente sì, tramite l'iscrizione all'ente bilaterale che è partecipato dai sindacati di categoria e dalla ConfCommercio. Molti corsi di formazione, quelli obbligatori sia per i lavoratori che per le aziende, sono o finanziati integralmente o parzialmente finanziati. Questa è una grossa opportunità per tutti i soci della ConfCommercio. Quali sono le novità quest'anno? Il catalogo 2024 ha diversi corsi nuovi. Nell'area digitale abbiamo ad esempio progettato un corso sull'intelligenza artificiale. Abbiamo inoltre riproposto per il settore turistico e commerciale i corsi di lingua, nello specifico inglese e tedesco. Un nome d'eccezione per i corsi di cucina anche? Sì, quest'anno dopo tanti anni riavremo in aula lo Chef Prandi. L'anno scorso quali sono stati i corsi che hanno avuto più successo? Dove li avete riproposti naturalmente anche quest'anno? I corsi di lingua sicuramente, i corsi tecnici di paghe e contabilità per i quali da diversi anni siamo diventati il punto di riferimento dei privati che decidono di approfondire queste tematiche. Dopo tre settimane l'ECCO torna finalmente in campo. I blu celesti sono volati a Catanzaro dove venerdì alle 20.30 si troveranno di fronte una delle squadre rivelazione del giro ed andata. Ci saranno i tre nuovi acquisti, gli attaccanti Sassedo e Salomà e il terzino Luachimà, ma partiranno dalla panchina. Siamo una squadra che ha cercato di fare giocare in tutti e due i modi e ha portato benefici in tutte e due le situazioni che abbiamo messo in campo. Aspettare, ripartire o anche proporre il nostro gioco con ottime prestazioni. Quindi dobbiamo essere bravi durante la partita a capire i momenti di gioco in cui si può fare una cosa e l'altra. Dobbiamo stare attenti al gioco, al possesso, al movimento senza palla dei giocatori del Catanzaro perché su questa tipologia di gioco sono molto bravi e rodati. Proseguono le trattative per dare nuovi rinforzi a Bonazzoli e Malgrati. Emanuele Ndoi si è liberato dal Brescia e resta un obiettivo blu celeste. Non ha mai rifiutato la piazza lecchese. Nel mirino è anche un altro centrocampista, Marco Frigerio del Foggia, ma nel pacchetti pugliesi vogliono inserire anche l'attaccante Beretta e il portiere Dalmasso. Si continua a sognare Cerishev del Venezia. Arriverà anche una punta centrale, però il DS Fracchiolla non scopre le sue carte. Intanto sono terminati i lavori di ampliamento dello stadio Rigamonticeppi, circa 500 posti in più in curva sud e l'installazione dei nuovi seggiolini, che in curva nord formano il numero 1912, anno di fondazione del club. Fratti conteggi anche il settore più caldo del tifo blu celeste potrebbe vedere aumentata di una settantina di posti la sua capienza. Oggi il primo sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza per decretare l'agibilità dello stadio ne seguirà un secondo. Applausi, sorrisi, una folla entusiasta ha accolto Antonio Albanese al Cineteatro Jolly di Olginate. Due proiezioni speciali del suo ultimo film, Centodomeniche, nel paese dove è cresciuto. Per me questa sera è veramente una serata, potete forse immaginarlo, per vari motivi. Primo perché ho girato questo film, l'ho voluto assolutamente girare qui a Olginate, tra Olginate, Carlate e Lecco. E non è facile, credetemi, perché tutti, diciamo, i professionisti, artigiani e tutti del cinema hanno sede a Roma, quindi spostare per poi comunque... però lo volevo fare qui e poi qui al Cinema Jolly del mio paese dove io sono cresciuto e nato, quindi... Un applauso, grazie Antonio. Molto emozionato. Tanti gli olginatesi in sala che hanno preso parte al film come comparse o per piccole parti. L'esperienza nuova, è stata una bella emozione, ho fatto la parte di Umberto lì alla bocciofila di Garlate e è una cosa incredibile, bisogna essere dentro per capire. Bellissimo. Questa è la seconda volta che ho fatto la scomparsa, io dico la scomparsa perché mi diverto. Com'è Antonio sul set? È Antonio in gamba, è me amice, cioè l'ho visto nascere, l'ho visto crescere, ho conosciuto la sua famiglia, perciò lo conosco benissimo. Quante ore è stato in ballo per girare una scena senza battute? Ma siamo stati... io ho una mezzogiornata. Ne è valsa la pena? Sì, sì, è molto... un'esperienza bella. Volevo provare con Stalir Aschi per entrare di più nella parte. Però per me è stato impossibile perché non avevo il materiale umano adatto perché aveva la faccia, sembrava il più onesto del paese, insomma non riuscivo a entrare. Un'emozione grandissima anche perché Albanese è stato grande e non pensavo di provare questa esperienza nella mia vita. L'emozione è grandissima e il mio ruolo è che sono l'amica dell'amante di Antonio e prendo il tè un pomeriggio con altre amiche. Mi è piaciuto perché adoro il cinema, vado spesso al cinema, poi Antonio è un amico e oltretutto ho lavorato da mio papà per un po' di anni. Per caso mi sono presentata, sono stata avuta la fortuna e il piacere di partecipare a questo grande film. Albanese è stato come l'avete visto questa sera, gentilissimo, disponibile, simpatico. Per ora è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con l'informazione di Unica. 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 Unica.